Noi vediamo sempre sui giornali un picchino di chimale che ti sento meglio a te Nato dal cervello di un artista con la celebra di vista con il mondo che per me Todo questo figlio è ogni sabato mattina si presenta nella crescita sua bellissima Grazie a tutti. Grazie a tutti.